da dove cazzo sono arrivate ste cose che avevamo pulito tutto porto di un cane il cagnolino solo che lui ha detto che ha provato di qua ma come lui è andato sulla strada di lì adesso metà magari vanno di là dal gatto e metà vanno su qua diretti andiamo a vedere il gatto proviamo vabbiamo 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 Grazie a tutti. E l'ho anche visto, l'ho anche visto, ho detto se non lo allungo cado. Ah ma mi è uscita la marcia, ecco perché. E' uscita la marcia a metà, ecco qua. E' uscita la marcia a metà. Grazie a tutti. Wow. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, o andiamo su di qua in due o tre, andiamo a vedere su in strada se lo troviamo, perché abbiamo perso il cane. E' un po' pieno di piante. E' un po' pieno di piante che è scappato. Eh, ha detto che è scappato ma non ... Vabbè ho capito se lo vedi, mogli lì la moto, un momento. E' unibanico che vuoi fare? E' unibanico che vuoi fare? Grazie a tutti.